ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo video è stato ripreso da un uomo durante il suo allenamento in palestra l'uomo sentendosi osservato decide di fare una panoramica della palestra riprendendola col suo smartphone ciò che registra è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti una guardia di sicurezza durante il suo turno di notte nota qualcosa di strano sul monitor sembra che due strane figure trasparenti appaiano all'improvviso passando proprio davanti alla telecamera lasciando il povero guardiano inerme di fronte a tale fenomeno che non può fare altro che documentare quello strano episodio il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento a guardare il documento questo che non mi explique questo questa telecamera installata di fronte alla casa di una donna anziana riprende una strana figura dall'aspetto femminile con una veste lunga e bianca il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento a guardare il documento il prossimo filmato è stato ripreso nella stanza di un ospedale durante il filmato qualcosa di strano passa velocemente davanti all'obiettivo della telecamera qualcosa che non sembra avere nulla di umano il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato andiamo a guardare il filmato una bambina ripeteva più volte sui genitori che lei aveva un'amica immaginaria un giorno la piccola fa segno alla madre e il padre che la sua amica si trova proprio di fronte a loro così uno dei genitori scatta questa foto e sulla foto rimane impressa la figura di questa bambina dall'aspetto davvero inquietante la telecamera di sicurezza di una casa cattura un impressionante fantasma che si materializza davanti all'abitazione muovendosi in modo tranquillo e disinvolto il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti il video seguente è stato ripreso da una giovane ragazza che recandosi nell'ospedale a trovare un suo parente riprende un evento paranormale davvero impressionante il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti in un mercatino delusato un uomo viene attratto da una bambola che si muove senza che nessuno la tocchi la cosa sembra divertire l'uomo tutto cambia quando il pupazzo comincia a fissare l'uomo in una maniera davvero inquietante il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti grazie a tutti e anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao